Lezione 6, forature. In questa lezione vedremo come è possibile copiare i fori, spostarli e fare il comando simmetria. Per prima cosa ho un profilo in cui ci sono dei fori e degli altri elementi che non sono forati. Quindi seleziono il comando copia fori e il profilo in cui sono presenti le forature. Adesso seleziono tutti gli oggetti che non hanno la foratura a cui devo trasferirla, quindi due profili ed una piastra per esempio. Mi viene chiesto di inserire una tolleranza, se c'è si inserisce il valore, altrimenti se non voglio fare nessuna tolleranza indico 0. In automatico i fori sono stati riportati dal profilo principale agli elementi secondari. Adesso vi faccio vedere com'è il comando copia fori multiplo. Quindi seleziono, in questo caso ho gli elementi che sono forati e non l'elemento principale. Quindi seleziono gli elementi secondari, seleziono l'elemento principale in cui devo trasferire le forature, anche in questo caso indico il valore della tolleranza, confermo con ok e in questo caso le forature sono state trasferite. Quindi seleziono gli elementi secondari al principale. Un'altra cosa che è possibile fare è lo spostamento dei fori. Quindi ipotizziamo che durante la progettazione sia cambiata questa dimensione di questa piastra. Quindi adesso la cambio. E devo di conseguenza spostare anche le forature. Quindi seleziono il comando sposta fori, l'elemento forato. Adesso purtroppo la visualizzazione non è ottima, però all'interno del foro, nel centro, ci sono delle linee. Queste linee sono gli assi della foratura. E' importante selezionare le linee e spostarli semplicemente con il mouse. Quindi io vado a selezionare le linee, le sposto. Come vedete potevo sia spostarle col mouse oppure dando una dimensione di spostamento. I fori si sono spostati. L'altro comando che vi voglio far vedere è la simmetria fori. Allora, simmetria fori, questo mi permette di spostare i fori da una parte all'altra del livello e del profilo, oppure fare una copia. Quindi adesso voglio spostare questi fori che ho in anima. Come vedete si sono spostati da una parte all'altra del profilo. Nel caso in cui io li debba copiare, allora seleziono questa parte, faccio copia, in questo caso li sto copiando. E i fori sono copiati da un lato all'altro. La stessa cosa posso fare per quello che riguarda lo spostamento. Quindi cambio il livello, mi metto sul livello 2 e faccio una copia dei fori. Quindi seleziono questo comando che mi permette di copiare i fori e li ho copiati. Per fare la simmetria anche di questi fori, richiamo il comando, seleziono, mi metto sempre sul livello 2, gli dico di fare una copia. Eccola dall'altra parte che ho la copia dei fori.